benvenuti dolcette passanti io sono air io sono cal e questo è l'avventure allora siamo sempre qua a giocare a dolce fritt vita università episodio 6 segreti e confidenze il comportamento del professor zai di crea dei sospetti e quando mai e tu dovrai soffocare la voce prima che si propaghi e come se non bastasse in questo momento chi ti circonda si comporta in maniera strana cerca di capire di più e ad avvicinati ad alcuni di loro è un ciao il professor zai di si è subito allontanato un po credevo che fosse letto con la febbre mannaggia te jun ma chissà cosa ci ha detto per questo non voleva venire a lavorare e si è inventato avere la febbre perché sa cosa da fare in giro basilico salvia buongiorno signor sei bene non parliamo del fatto che qua c'è mio prof sì anche tu a quanto vedo ma tutto bene sì finalmente la giornata è finita è stato davvero estenuante il suo sguardo passa dal professor zai di a me ha una strana espressione ma come vuoi che ti guardi e te credo scusa mi stai slinguando quasi un prof io non importa er che l'essenziale è che tu non abbia bisogno del mio aiuto per mettere apposta al bar non volevo che tu fossi in difficoltà e fossi obbligata di tornare tardi a casa ah sì è davvero gentile da parte tua devo dire che non è facile non so come fai tu da solo per la chiusura del bar ci vuole un sacco di tempo è questione di abitudine vedrai ma quando mai ci licenzo un domani bene allora sono felice di aver potuto essere d'aiuto signorina herkel le auguro un buon weekend sì grazie di nuovo professore ha salutato yun con un cenno della testa e se ne è andato verso il campus è in quel momento che mi sono accorta che yun mi osservava mentre seguì il professor zai di con lo sguardo sì però non puoi fissargli il culo mentre se ne va dai questo tipo non mi spira fiducia non avevo ancora mai sentito yun usare un tono simile e perché non lo so un'intuizione puzza è un po vago non so come dirlo o forse è il fatto di vederlo parlare con te parlare con me sembravate intimi non lo siamo è solo il mio prof insomma yun queste accuse avrò interpretato male a proposito tu non dovevi essere malato e sofferente a letto con un mucchio di coperte cosa fai qua gli ho lanciato un'occhiata interrogativa mi sento meglio non volevo che ti ritrovassi da sola rimettendo i tavoli nel bar sei gentile ad aver pensato a me ero sul punto di rimettere l'allarme e tornare al campus va bene vedo che te la cavi benissimo da sola ormai quando ripensa la erchel dell'inizio che mancava di fiducia in se stessa è ancora lì facciamo sussilizzata del muro facciamo solo finta non so se sarei stata così efficiente senza l'aiuto di pria a dire la verità un'amica è venuta al bar mi ha dato una mano davvero era rose no pria è già venuta qui a bere un caffè ma non te l'ho ancora presentata ah ok e ti ha aiutata io ecco mi ha gentilmente proposto il suo aiuto e mi rendo conto ad un tratto che non era necessariamente una buona idea lasciare le redini del bar a qualcuno senza avvertire yun o clementina è stato super gentile da parte sua soprattutto perché avevo pensato di venire ad aiutarti io ma non ero davvero in grado di oh certo non avresti potuto ad ogni modo tra rosa alexi e adesso pria sembra proprio che tu ti sia circondata da brave persone infatti l'unica pecora nera siamo noi lì in mezzo vai a mettere l'allarme dai ti aspetto qui tanto vale tornare al campus insieme alla stessa direzione ma tu ti fidi di lasciare lei che infila dei numeri in un tastierino che non sa neanche contare da uno a due perfetto ho dato un'occhiata intorno per essere sicura che fosse tutto in ordine credo di non aver dimenticato niente ho attivato l'allarme vista la paura che ho avuto stamattina non credo che mi capiterà di nuovo di dimenticare il codice ho digitato 28 n1 sulla scatoletta nera e sono andata da io che mi aspettava fuori ho sentito un trambusto vicino al frigo c'è qualcuno o una padella e so come usarla forse o eccoci tesoro mi stava appunto chiedendo se il bar era aperto perché sei entrata dalla cucina donna accidenti zia mi hai fatto una paura tremenda cosa ci fai qui e quando è che sei entrata nel bar non ti ho vista stavi parlando con quel bel ragazzo elegante con la giacca e la camicia aperta non volevo disturbarvi pareva fosse intenso quello che c'era tra voi il mio professore di storia dell'arte ah davvero è professore è così giovane è troppo bello non so come fai a concentrarti a senti zitta ho attivato l'allarme è meglio che usciamo dal bar prima che si metta a suonare vieni me ne vado subito ma prima vorrei darti qualcosina per aiutarci a concentrarti a lezione cos'è bene io vado non ti preoccupare saprò essere discreta nessuno mi vedrà uscire dal bar va bene vorrei sapere come va bene grazie alla prossima zii è già sparita occhiaia coccinella andiamo ti seguo abbiamo continuato a parlare strada facendo in ogni caso sembrerebbe proprio che la tua formazione al bar sia terminata ti occupi benissimo del locale senza l'aiuto di nessuno o quasi grazie penso di avere ancora delle cose da imparare ma non ho più così paura questo è vero avevi paura diciamo che mi sento un po tesa con clementina già lo so non riesco a capire perché si comporti così con te dici sul serio non è proprio la minima idea lo saprei ti trova troppo brava e ha paura che le rubi il lavoro io credo soprattutto che clementina abbia paura che tu passi meno tempo con lei e più con me io non ha smesso di camminare e allo sguardo fisso nel vuoto yun hai di nuovo la febbre no l'hai ucciso ehi yun mi senti cosa no 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 credo che no da no ti prego sì invece sì le piaci no yun tutto ok ti ringrazio per avermi aperto gli occhi ma ti prego non parliamone più mai più vuoi che non parliamo più di clementina o del fatto che le piacerebbe molto che tu non portassi niente sotto il grembio di servizio l'abbiamo detto davvero non ci credo basta ti prego è stato un avviso di quietante si è messo le mani sulle orecchie e si è messo a camminare più veloce promesso non ne parlerò più non è vero te lo faccerò a vita però non riesco a credere che tu non te ne sia mai reso conto non ci sono dubbi basta osservare il modo in cui ti parla poverino lo sguardo perso nel vuoto sembra un pesce appena pescato fuori dall'acqua sta schiattando pian piano non è il mio forte accorgermi di cose di questo genere abbiamo attraversato il cancello del campus continuando a parlare clementina mi ricorda una mia vecchia zia che non smette mai di prendersela con i suoi vicini perché fanno troppo rumore in giardino ma non è cattiva il fatto che tu stai paragonando clementina tua zia è un'associazione mentale collegata alla frase di prendere luce sul fatto che lei ti vuole nudo inquietante no non è quello che volevo dire ma mio padre ha l'abitudine di dire le persone bisogna amarle per poterle criticare da sempre dei buoni consigli non è la prima volta che sento io un parlare della sua famiglia la tua famiglia amita da queste parti purtroppo per andare da loro ci vuole la giornata con l'aereo ci vanno durante le vacanze ha tirato fuori il cellulare dalla tasca guarda questa è mia padre mio padre alla sua sinistra mia seconda sorellina quella che fa una sborfia e iseul e dietro in fondo mia nonna con l'altra sorella e ah che carini ah scusa mi fermo facilmente quando parlo di loro siamo quasi arrivati ai dormitori ti prego salvaci da questa conversazione voglio gli elid comunque non vedo l'ora di presentarteli ho deglutito e la saliva mi è andata di traverso sono rimasta senza fiato per almeno dieci secondi prima di riuscire a respirare di nuovo non devi far tre minuti così il cervello moriva no 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 voglio dire cioè non in quel senso è solo che mi dava dei colpetti sulla schiena per aiutarmi a riprendermi è piuttosto nel senso che sei una persona adorabile simpatica e penso che andrei d'accordo con le mie sorelle e con mia madre mi sono raddrizzata avevo gli occhi umidi a forza di aver tossito insomma come amici ecco non come la mia hai capito no diamine yun di solito te la cave un po meglio per primerti mi sono schierita la voce sorridendo non riesce a fare a meno di parlarsi da solo nelle situazioni imbarazzanti come questa sembrano simpatici è vero lo sono bene vado a riposarmi adesso capisco a che punto le persone abbiano bisogno di ferie dopo delle giornate di lavoro estenuanti come quella che ho passato fare il cameriere è un lavoro molto faticoso e per quello che facciamo siamo pure mal pagati questo è dannatamente vero questo è vero chiederemo un aumento yun domani la prima cosa che farò sarà andare a manifestare davanti al bar per ottenere un aumento da cleventina domani è domenica e quindi i bar sono aperti appunto ops ah comunque grazie di essere venuto a darmi una mano stasera anche se anche se non sono servito a niente ecco se tu potessi non dire in giro che il professor zaidi è venuto qui mi faresti un piacere ecco perché credevo che voi stesse solo parlando è così ma sai come la gente chiacchiera i tegolezzi prosperano nelle università quindi sarebbe meglio naturalmente non avevo l'intenzione di parlarne soprattutto mi avevi detto che non c'era dietro di strano ma la tua richiesta mi fa vedere un dubbio adesso no io va bene ho capito ok sogni d'oro ci vedremo sicuramente in settimana se non ti sogna di nuovo perché questa si fa dei sogni va bene buonanotte buonanotte grazie a tutti